Alla 38esima fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano, un'azienda tutta cuneese, la Olimac, di cosa vi occupate? Olimac è un'azienda storica del cuneese, è un'azienda che oltre se storica ha fatto la storia delle testate mais e la sta facendo tuttora e soprattutto la fa per il futuro. Olimac opera da oltre 60 anni sul territorio ed è un'azienda che ha incentrato tutta la sua attività sull'innovazione tecnologica. Pertanto ha delle peculiarità uniche, non solamente in Italia e in Europa ma addirittura al mondo. La prima peculiarità è che Olimac è l'unica azienda al mondo che produce integralmente all'interno del proprio stabilimento tutti i pezzi degli spannocchiettori. L'altro aspetto molto interessante dell'azienda è che l'azienda produce esclusivamente macchine per la raccolta del mais. Questa è una caratteristica anche essa unica che ha permesso a Olimac di concentrarsi soprattutto sulla ricerca e sull'innovazione tecnologica. E questo ha consentito di sviluppare una serie di peculiarità di prodotto uniche appunto nel panorama internazionale. Ha citato lei il panorama, quali sono i mercati che la Olimac segue? Olimac esporta in tutto il mondo il 98% della produzione. A questo proposito, dato che è un qualcosa che proviene dall'America, un premio di un'importanza strategica enorme per Olimac ma altrettanto importante per i clienti che utilizzano gli spannocchiettori d'ago. Si tratta di un premio internazionale di una società americana, la più importante società americana, che certifica dati sulle macchine agricole. È un premio che stabilisce, che certifica che la macchina Drago Olimac è la macchina che mantiene il suo valore di mercato più elevato dopo i cinque anni dall'acquisto. Dovessimo descrivere sinteticamente qualche caratteristica degli spannocchiatori, quali sarebbero? Due caratteristiche, ambe due brevettate a livello mondiale. La prima sono i piatti spannocchiatori a regolazione automatica e ammortizzati. Questo fa sì che la raccolta del mais sia totale senza perdite. L'altra caratteristica riguarda invece il doppio trinciastocchi effetto forbice. Il doppio trinciastocchi consente di sminuzzare il mais il doppio rispetto a qualunque altro tipo di trinciastocchi presente sul mercato. Ricordiamo dove i telespettatori possono trovarvi anche dopo questa fiera di Savigliano. La Olimac si trova a Margherita, come citavo prima, è un'azienda su una superficie di 90.000 metri quadri e la caratteristica particolare è che è un'azienda totalmente robotizzata. Tutto parte ovviamente dalla genialità degli ingegneri della Olimac che hanno saputo, diciamo così, creare questo stretto connubio tra la mente umana e la parte robotica dell'azienda.